Il Covid e la guerra ci hanno fatto scoprire ancora di più l'importanza della logistica e la ZES abruzzese, con Ortona come centro portuale, è la prima che si realizza e farà da apripista. Lo ha detto la vice ministra Teresa Bellanova Ortona, a margine dell'evento PNRR ZES, patto del territorio, organizzato dal deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro, al quale hanno preso parte oltre al presidente dell'autorità portuale adriatica Vincenzo Garofalo, il commissario ZES Abruzzo, Mauro Miccio, Lorenzo Alessi, coordinatore di supporto ZES dell'Agenzia per la coesione territoriale, Camillo Falasca, consigliere economico del ministro Carfagna. Vice ministro, lei ha parlato di Ortona come apripista per quanto riguarda le ZES del mezzogiorno. Sì, perché la prima ZES, per cui è stato nominato il commissario, è stato avviato un lavoro importante e io credo che questa può essere una buona pratica che deve essere utilizzata anche dagli altri ZES. Questo strumento che io considero di grandissimo valore per la ripartenza del mezzogiorno, per lo sviluppo del mezzogiorno, è uno strumento che è stato molto sottovalutato, perché le ZES sono state pensate il 2016, sono state normate il 2017, sono state tenute bloccate fino al 2019, e però siamo arrivati al mese di dicembre del 2021 perché le risorse del PNRR che destinano 630 milioni per le 8 ZES hanno visto finalmente il decreto, sono risorse del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con un decreto interministeriale firmato da Giovannini e la ministra Carfagna per dare queste risorse effettivamente nella disponibilità dei territori. Ma la cosa più importante delle ZES non sono solo le risorse, gli investimenti, sono le infrastrutturazioni e la possibilità di rendere il territorio attrattivo per gli investimenti. Noi per tanti anni abbiamo visto le nostre imprese che andavano all'estero. C'è una fase di rientro perché le catene del valore devono essere sempre più legate al territorio e perché questo accada e rientrano gli investimenti in Italia, oltre che nuovi investimenti vengano pensati per l'Italia, c'è bisogno che il territorio sia attrezzato anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, della semplificazione amministrativa e delle competenze che dobbiamo formare. Il porto di Ortone, il territorio e l'indotto in prima linea per la logistica è stato detto e l'attrattività per gli investimenti in loco grazie alla ZES e ai fondi del PNRR.